Non è stato un fulmine a ciel sereno, era infatti una notizia praticamente già certa. Mancava di fatto solo l'annuncio ufficiale della FIP che ha deciso di sospendere definitivamente anche i campionati di Serie A e Serie 2 per la pandemia da coronavirus dopo il precedente stop per la Serie B e per tutta l'attività regionale. La Federbasket ha scelto così di tutelare la salute di atleti tecnici, arbitri e dirigenti lo scudetto 2019-2020 di conseguenza non verrà mai assegnato. Si è conclusa anzitempo dunque la stagione di altre due realtà pugliesi brindisi nella massima serie San Severo in Serie A2. Nel rispetto dei ruoli toccava alla Federazione dare l'annuncio ufficiale dietro ovviamente una nostra accettazione. Era inutile continuare a portare avanti questo campionato perché purtroppo non ci sono le condizioni per poterlo terminare, non ci sono le condizioni per poterlo terminare con un'egualianza competitiva che sicuramente veniva smarrita ed era smarrita ormai con la partenza di tutti gli americani presso le loro sedi. L'auspicio è quello di ripartire serenamente in autunno. Dobbiamo lavorare immediatamente per una grande ripresa, una ripresa a settembre ci auguriamo con una grande manifestazione che possa coinvolgere gli attuali sponsor, che possa coinvolgere il pubblico che ha avuto un danno dalla mancanza delle partite ancora da ultimare e soprattutto ha avuto una mancanza dal grande pathos che questo campionato soprattutto per noi di Brindisi poteva continuare a dare. Decisamente positivo il campionato disputato prima dello stop dai messapici quinti in classifica con un bilancio in campionato di 13 affermazioni ed 8 sconfitte. Brindisi inoltre ha raggiunto la finale di Coppa Italia persa contro Venezia e ha partecipato alla Champions League di palacanestro. Nel girone di ritorno su cinque partite noi ne avevamo vinte quattro, di cui due in trasferta a Brescia e a Cantù li avevamo perso in casa soltanto contro Milano col tiro dell'ultimo secondo sbagliato. Quindi eravamo in un momento di grandissima forma, avevamo raggiunto le finali della Coppa Italia e qui aumenta il rammarico per la seconda sconfitta in finale. Peccato però, tornando indietro, dobbiamo pensare quando Brindisi andava in Serie A e procedeva dopo pochi mesi, dobbiamo pensare invece che abbiamo fatto l'ottavo campionato di Serie 1. Eravamo in partecipazione ai play-off, due finali di Coppa Italia, quindi il bicchiere io lo vedo molto pieno, non mezzo, ancora di più. Grazie a tutti.